Una fissazione per Donald Trump, quella del muro tra Stati Uniti e Messico, ne vuole costruire uno identico a quello di Ciudad Juarez, eretto tra il 2007 e il 2010, iniziato sotto Bush e terminato sotto Obama. L'impegno è stato ribadito anche in uno degli ultimi tweet del neopresidente, in cui pare sottinteso lo sblocco dei fondi per la costruzione del muro. Lo scorso agosto, incontrando a Città del Messico il presidente messicano, Trump aveva avuto toni più concilianti, anche se la costruzione del muro restava tra le sue priorità, non solo per bloccare l'immigrazione ma anche per la sicurezza di entrambi i paesi. La storia del muro però risale a qualche mese prima, dove in marzo Trump lanciava quella che sembrava una butada. Costruirò un enorme muro tra Stati Uniti e Messico e quest'ultimo pagherà. Cosa che ha ribadito anche più recentemente, e Trump intende farlo tassando i risparmi che i messicani inviano a casa, circa 23 miliardi di euro all'anno. Nel programma di Trump, non solo barriere materiali, il presidente americano vuole anche rinegoziare il trattato NAFTA tra Canada, USA e Messico, che alimenta un commercio bilaterale di 494 miliardi di euro. Circa l'80% delle esportazioni messicane prendono la via degli Stati Uniti. E domenica, subito dopo l'investitura, Trump dichiarava riguardo al Messico. Rinegozieremo il NAFTA, tratteremo sull'immigrazione, la sicurezza, la frontiera. Il Messico è stato grande, finora il suo presidente è fantastico e avremo ottimi risultati, sia noi che il Messico e tutti gli Stati coinvolti. Il messaggio inequivocabile è stato recepito dal Messico, che ha risposto. Non accetteremo un nuovo negoziato sul trattato di libero scambio. C'è sempre la possibilità di recedere da un accordo e gli scambi tra i due paesi saranno gestiti secondo le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. La seconda potenza dell'America Latina non può tuttavia ignorare l'importanza del mercato nordamericano, anche se cerca di diversificare i partner commerciali.